Il costituzionalista Enzo Di Salvatore, professore dell'Università di Teramo ai microfoni del Tg8, evidenzia il suo punto di vista rispetto alle deleghe da assegnare ai consiglieri regionali da Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Perché questo forse non sarà certamente una novità, né in questa Regione e forse neppure in altre Regioni, però resta il fatto che c'è un limite che è stabilito sia della legge dello Stato, che risale al 2011 riguardava la spending review, sia il fatto che lo statuto della Regione stabilisce quanti siano i consiglieri e sulla base di quello si calcola il numero dell'aggiunta. Intanto c'è questo dato. E poi il cortocircuito è dato dal fatto che così facendo si finisce per incidere sulla forma di governo, perché i consiglieri presenti nella Regione sono eletti direttamente dal corpo elettorale, quindi non hanno bisogno, i membri della Giunta e del Presidente, per iniziare a lavorare della fiducia iniziale. Però permane nelle mani del Consiglio il potere di sfiduciare il Presidente della Giunta e quindi anche tutto il Governo regionale. Ed è chiaro che se io sono consigliere al tempo stesso, surrettiziamente assessore, finisce per essere qui, in cortocircuito, esattamente in questo, perché io finisco per essere controllore e controllato.